Ciao, io sono Elgazi e questo è il canale di Elgazi. Bene, come avete visto dal titolo, Adobe ha acquisito Figma per 20 miliardi di dollari. Quello che sappiamo è che Adobe è un grande player sul mercato del design. Diciamoci la verità, cerca di mangiarsi tutta la concorrenza. Adesso mandiamo la sigla e vediamo insieme cosa è successo e questa vicenda, perché potrebbe beneficiare tutti noi designer e futuri designer. Potrebbe migliorare tutto come potrebbe peggiorare tutto. Vediamo insieme, sigla. Allora, fondata nel 2012, Figma è un software di progettazione basato sul cloud, quindi consente ai team di collaborare contemporaneamente all'interno della piattaforma. E in tempo reale è un rivale diretto di Adobe XD e dopo l'acquisizione integrerà alcune funzioni all'interno del prodotto Adobe XD. Come illustrazione, fotografie, tecnologie e video all'interno della piattaforma Figma. La combinazione di Adobe e Figma è trasformativa e accelererà la nostra visione per la creatività collaborativa. Così ha dichiarato il CEO di Adobe, Shantanu Narayan. Non so se è giusto, Shantanu Narayan sembra indiano. Chiaramente non sono tutte le aziende disponibili a spendere una cifra del genere per acquisire e fare un investimento simile di una concorrente. E Adobe non ha una buona fama per quanto riguarda l'acquisizione di altri concorrenti oppure possibili aziende che possono collaborare con Adobe. In passato, ricordiamo l'acquisto di Frame.io, che è stato abbastanza recente ma si parla già del passato, perché Adobe è su Figma adesso. E da cosa si capisce che non sono molto contenti di questa nuova acquisizione? Da cosa lo si capisce? Gli investitori non sono stati molto entusiasti. Infatti Adobe nel premercato il suo titolo è sceso del 10%. Dopo l'acquisizione è scesa del 10% nel premercato. Dopo l'acquisizione di Frame.io, l'azienda non è andata molto bene. In.io è un'azienda che collabora con Adobe ed è sua in questo esatto momento per la creazione e facilita il workflow per la creazione di video dei videomaker e dei creatori. Hanno integrato dei tools all'interno di Premiere e secondo alcuni creator e secondo alcuni videomaker non funziona molto bene, non è andata molto bene questa integrazione. La più grande paura che hanno adesso i designers con l'acquisizione di Adobe è che le cose possono cambiare, quindi Figma poi non aveva più la versione gratuita. Però in realtà l'app ha la sua versione gratuita ma è già a pagamento, quindi non avrebbe senso pensare questo. Sono disponibili alcuni tools nella versione gratuita e altri per la versione più professionale c'è una versione a pagamento, quindi se paghi hai più strumenti professionali. Quindi l'unica cosa che può succedere, e non credo che Adobe toglierà la versione gratuita, potrebbe farlo e quindi spararsi ai piedi praticamente, quello che potrebbe succedere è che integrerà la versione a pagamento, quindi professionale, all'interno della Creative Cloud, ok? Se toglie la versione gratuita, mo' son cazzi, cioè son cazzi veramente per Adobe se toglie la versione gratuita di Figma. Però di Figma diciamo alcune cose. Figma oggi è leader nel mercato e se prendiamo ad esempio le aziende di tecnologie più grandi, Figma ha un ruolo molto importante perché tutta la creazione, non dico tutta, ma alcune creazioni di queste grandi piattaforme di tecnologie vengono fatte attraverso Figma perché funziona molto bene. Da alcuni anni c'è stata una migrazione da altre piattaforme di creazione a Figma. Dalla comunità dei designers è stata preferita rispetto ad altre applicazioni. Questa è una cosa abbastanza ovvia perché se l'app funziona bene, se il software funziona bene, è voluta bene diciamo dalla comunità dei designer, dei creatori, è una cosa abbastanza ovvia. Quindi si migra da una piattaforma verso un'altra, in questo caso Figma. Adobe adesso sta cercando di rincorrere per quanto riguarda la parte di comunicazione e PR per mettere un po' a posto le cose, per abbassare le acque e calmare le acque nella comunità dei designer. Però parliamo di vantaggi perché ci potrebbero essere dei vantaggi tra le due aziende, quindi Adobe e Figma. Ad esempio la connessione tra Illustrator e Figma e anche Photoshop, eccetera, eccetera. Quindi ci potrebbe essere una connessione che potrebbe facilitare il lavoro, facilitare il workflow e avere un mille in uno. Cioè tu hai Adobe, hai la Creative Cloud, hai Figma e puoi praticamente fare tutto, tutto quello che vuoi attraverso l'abbonamento di Adobe. Quindi Adobe si acchiappa tutto il mercato praticamente. Adobe cerca di calmare un po' le acque e infatti il CEO di Figma ha fatto una dichiarazione che, diciamo, vuole mantenere l'autonomia, l'autonomia totale di Figma. Non lo so, sembra una cosa fatta apposta, diciamo, per calmare le acque. Così ha dichiarato in un testo, però il futuro, cioè Adobe può fare praticamente quello che vuole. Quindi autonomia, autonomia, però se il proprietario è Adobe... Le altre belle integrazioni che ci possono essere, come ho detto prima, file di Photoshop, file di Illustrator, ma anche il fatto che magari Photoshop possa girare come Figma attraverso il browser. Quindi avere una connessione con gli altri collaboratori con cui stai lavorando molto, molto più bella. Il futuro promette, le tecnologie stanno avanzando, quindi questo è un bene per Adobe, ma è anche un bene per la comunità dei designers. E' un bene per noi, potrebbe essere tutto più leggero, tutto più facile. Adobe gira sul browser, anche Illustrator. Questo è un bene per la comunità del design. I grandi fan di Figma magari oggi non sono molto contenti per questa acquisizione, però il futuro promette bene, promette molto bene. Resta solo da chiedersi se Adobe approfitterà di questa situazione, di questa acquisizione miliardaria, sono 20 miliardi, o se butterà tutto nel cesso, come magari è successo per delle altre acquisizioni, che non hanno buttato nel cesso, però non hanno saputo approfittare, diciamo, dell'occasione dell'acquisizione. Resserà a vedere, vedremo insieme che cosa succederà. Bene bene, notizia al volo. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ogni giovedì alle 19 con il nostro podcast sulla creatività, con un ospite creativo nuovo. E ci trovate qui nella nostra comunità El Gazi, che sarà El Gazi Podcast, ma usciranno anche questi video settimanali per tenerti aggiornato e tenerti creativo, insomma. Segui la nostra comunità su YouTube, sempre siamo aggiornati su video, podcast, eccetera. E io ti ringrazio per aver messo like a questo video, perché io sono sicuro, sono sicuro che l'hai fatto. E noi ci vediamo settimana prossima, con un podcast in live, dove puoi partecipare e commentare, e con un video nuovo, anzi più video nuovi durante la settimana. Ci vediamo alla prossima. Sigla.